ciao buona serata a tutti benvenuti in questa nuova diretta di bricomaghi un altro dei nostri laboratori didattici oggi vi parlo del lucet che è questa specie di forchettone una forcella appunto come potete vedere forcetta ha più di un nome di un riferimento in questo senso ma se la volete acquistare cercatela come lucet scrive lucet proprio l u c e t lucet assomiglia a uno di quei appunto forchettoni che si usano in cucina quelli di legno quelle posatone di legno probabilmente le avete presenti e infatti ho notato che alcune se sbirciate un pochino su youtube e soprattutto su web in generale anche su pinterest non soltanto trovate le istruzioni anche abbastanza chiare scritte quindi tra l'altro vi metterò anche riferimenti perché chiaramente come tutte le nostre dirette anticipano quelli che sono appunto i video tutorial sul nostro canale youtube se acquistate questa che ho io qui vi metterò appunto i riferimenti sulla confezione trovate anche le istruzioni